una partita brutta e noiosa non potrà mai diventare intensa e spettacolare ciò non toglie che un bravo telecronista deve comunque mantenere il suo ritmo è chiaro che si è se si è da soli è più complicato se invece si ha una spalla tecnica e soprattutto se c'è un affiatamento con essa i vuoti della partita e comunque i ritmi blandi possono essere suffragati con appunto la partecipazione della spalla tecnica in due si riempiono meglio gli spazi e si hanno minori difficoltà però il ritmo rimane una caratteristica fondamentale di una telecronica mantenere un buon ritmo non significa far diventare una partita brutta una partita spettacolare cioè non possiamo vendere fumo a chi ci sta vedendo da casa perché la vede lui per primo la partita e quindi si rende conto che stiamo assistendo a una brutta gara e allora il ritmo va sempre mantenuto costante con una certa caratteristica ma al tempo stesso gli eventuali vuoti di una telecronica possono essere riempiti con delle informazioni questo sarà poi un aspetto che vedremo più avanti come si prepara una telecronica sta di fatto che un telecronista preparato ha una serie di informazioni che potrà usare durante la sua telecronica e quindi mantenere comunque il racconto vivo e interessante proprio perché ha delle informazioni che può dare all'ascoltatore indipendentemente da quello che sta accadendo durante la partita perché magari una partita che non offre spunti e non offre occasioni quando dico che bisogna avere un buon ritmo anche se la partita non offre grandi spunti non vuol dire parlare costantemente lasciando nessuno spazio vuoto io credo che qualche spazio di qualche secondo ogni tanto vada lasciato quindi quando si parla di ritmo non significa riempire di parole una telecronica in sintesi dobbiamo ricordare che una partita sia bella o sia brutta deve avere un buon ritmo там ti 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 Grazie.